Quattro anni sono trascorsi dall'incendio alla Grenfell Tower di Londra e entro l'estate il governo britannico deciderà cosa fare dello scheletro dell'edificio in cui persero la vita 72 persone, tra cui due italiani. L'idea di demolirlo incontra la ferma resistenza dei parenti delle vittime, riunite nell'associazione Next of Keen, che si è rivolta all'archistar Stefano Boeri. La domanda che mi era stata fatta è di capire se era possibile ridare vita a questo rudere che rappresenta per molti di loro un simbolo di dolore ma in qualche modo anche un simbolo importante perché ci sono le ceneri di molte vittime ancora e perché il timore di tutti è che questa torre possa essere demolita e che si perda la memoria di questa storia. Vussare alla porta di Boeri è stato conseguenziale se si guarda il lavoro fatto dal suo studio a Milano per il Bosco Verticale, una soluzione architettonica divenuta celebre in tutto il mondo, un edificio che respira con le sue facciate verdi e i balconi piantumati. Piantare alberi tra le rovine della Grenfell Tower è dunque quello che chiedono i parenti delle vittime nel quarto anniversario del rogo. Da icona del dolore la torre potrebbe così diventare nei cieli di Londra un monumento alla natura viva e alla biodiversità.